Giorgia Matarese. Sono nata a Genova il 20-7-1973, dove ho conseguito il diploma di maturità linguistica e successivamente quello di comunicazione visiva, grafica e pubblicità. Ho fatto un po' di tutto, babysitter, ballerina, cantante, fattorino e in qualità di illustratrice, grafica e pubblicitaria. Ho collaborato con varie agenzie genovesi, occupandomi di progetti sia locali che nazionali. Per la provincia di Genova, assessorato alla cultura, dal 2000 ho curato Stuzzica Libro, pubblicazione per la promozione della lettura per bambini e ragazzi. Per 11 bellissimi anni, sono stata insegnante volontaria di grafica all'interno della terza sezione della Casa Circondariale di Marassi di Genova, progetto custodia attenuata.